Confcommercio Provinciale Ragusa e Stazionascom di Modica hanno inviato una nota al sindaco Ignazio Amate per chiedere la revoca dell'ordinanza con cui si dispone la chiusura dei negozi del polo commerciale il 2 aprile lunedì dell'Angelo. Un provvedimento è scritto nella nota in cui non si sentiva il bisogno in quanto la forza e il dialogo tra noi commercianti aveva già portato alla chiusura della nostra attività per le festività pasquali, in ossequio ad una tradizione almeno ventennale. Da sempre scrivono il presidente provinciale emanente, il presidente cittadino Moncada, il lunedì seguente alla Pasqua la stragrande maggioranza degli esercizi commerciali ha ritenuto osservare la chiusura e successivamente all'emanazione della legge sul commercio liberamente di non aprire. Manente a Moncada evidenziano poiché è bastata una semplice interlocuzione anche col centro commerciale alla fortezza affinché tornasse sulla propria decisione condividendo la necessità di rispettare la tradizione di chiusura. Il dialogo quanto c'è, si legge nella nota, Ascom è sempre furiero di buone cose mentre le imposizioni provocano solo scompensi e di fatto è rispettoso verso l'azienda commerciale e l'impresa in genere, farle apparire come fuori legge e dissaclante dei valori, nella fattispecie quello religioso e della famiglia. La classe imprenditoriale della nostra terra non merita questa e le rivendichiamo con grande orgoglio.